Siamo con Stefano Vaccari, dirigente del Cottini Servizi Assicurativi. Ci racconta un po' quest'anno della squadra, le sue sensazioni da dirigente? Sanno le sensazioni all'inizio erano molto buone, siamo stati anche nelle prime posizioni per un po' di partite. Poi adesso purtroppo le ultime sette partite, se non sbaglio, o sette o sei che abbiamo perso, come ha detto prima il Presidente, sono state partite che abbiamo perso ma non abbiamo perso meritatamente. Partite strane che purtroppo possono capitare. Poi ragazzi, come diceva il prezzo, ci siamo trovati andando nelle partite in otto senza cambi. Ecco qua, siamo scesi per andare in zona play-out. Questa sera qualcuno è stato vicino alla squadra, abbiamo ricreato un gruppo buono perché sappiamo tanto che andiamo a fare i play-out ugualmente, però vogliamo farli come prima, cioè che come so io, come testa di serie, magari con due pareggi ci serviamo direttamente o addirittura con il più 10 di punti su quella che sta sotto ci serviamo e proveremo. Ecco oggi abbiamo provato a vincere, l'abbiamo vinta, quell'altra so che non la giochiamo perché quelli lì non si presenteranno, sarà 3-0 a tavolino, ecco qua. Però sono contento perché questa è una squadra che merita, cioè siamo stati rispettati da tutti. Chi ci ha visto anche lunedì contro Checco mi hanno detto siete una bella squadra, come fate a stare lì? Sì, purtroppo è così. Adesso, ecco, come ha detto il Presidente, saremo in Serie A, speriamo, perché vogliamo fare una cosa molto più bella a Sartranno. Grazie mille. Arrivederci.